E' stato giudicato incapace di intendere volere al momento del fatto e per questo la sentenza della Corte di Assise di Arezzo è stata di assoluzione. Questa mattina si è concluso così il processo a carico di Manuele Andreini, il 47enne che nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2022 a Calbenzano uccise la madre soffocandola con un cuscino. Fu lì stesso poi a chiamare il 112, venite ho ammazzato mia madre. Il 47enne era stato sottoposto nei mesi scorsi anche ad una perizia psichiatrica che ne aveva accertato il vizio di mente. La PM Francesca Eva, alla luce della non imputabilità dell'uomo, aveva così chiesto la soluzione e una messa in sicurezza in una struttura adeguata. La Corte di Assise ha disposto per Andreini adesso la libertà vigilata in una struttura dove settimanalmente verrà visitato e valutato dai medici. Per lui si apriranno le porte di una REMS, una residenza per le misure di sicurezza. Le sorelle di Manuele e Andreini si erano costituite parte civile nel processo. Un segno di rispetto per la memoria della mamma aveva precisato il legale delle donne.